Sono stata formata dalle due colleghe e quello che ho notato soprattutto nei bambini, a parte l'entusiasmo e l'emozione, la sinergia proprio che c'è stato tra questo gioco fantastico e la multimedialità con la collaborazione proprio dell'insegnante referente che ha coinvolto pienamente tutto il gruppo. Noi come colleghe penso di aver fatto squadra per la buona riuscita dell'evento.